Giovedì 7 agosto, Castione della Presolana, una finale di un concorso di bellezza a livello regionale. Sì, quest'anno ospiteremo la finale regionale, quindi di Regione Lombardia, della selezione per la più bella del mondo. 15 ragazze sfileranno in concorso e oltre al concorso ci sarà anche la sfilata di moda, dove i nostri negozi di abbigliamento e accessori mostreranno gli articoli per la prossima autunno-inverno. E tre delle ragazze che arriveranno in finale qua a Castione della Presolana porteranno la nostra fascia alla finale nazionale di Riccione e porteranno quindi il nostro nome e la nostra bella Castione in tutta Italia. Quindi ci saranno delle Miss Castione della Presolana? Speriamo che una delle nostre Miss arrivi fino a partecipare alla finale nazionale sicuramente e magari addirittura a partecipare alle selezioni della Miss Moda.